Buonasera da ETG Sport, l'informazione sportiva di Attivo Marche. L'ultima edizione della settimana arriva, un weekend molto interessante per quanto riguarda le nostre formazioni marchigiane impegnate soprattutto nei campi di calcio come vedremo tra poco dai vari programmi e partiamo in apertura dalla Serie B e dall'Ascoli che sarà impegnato contro il Parma, partita in programma allo stadio Tardini domani alle ore 14, questa la sfida che attende i bianconeri di Breda che vogliono provare a dare continuità al risultato prestigioso ottenuto la scorsa settimana e che affrontano una formazione forte quale quella Ducale, i giallo-blu che ovviamente specie in casa provano a sterzare la loro stagione. Ricordo, 25esima giornata domani ore 14, Parma contro Ascoli e ci trasferiamo invece in Serie C e al Girone B guardando invece il programma delle quattro formazioni marchigiane che saranno così impegnate a partire dalla Fermana che farà visita al San Donato Tavarnelle, l'unica partita delle nostre quattro in programma alle 14.30 e alle 17.30 invece l'Ancona contro l'Olbia e poi la Lucchese ospiterà la Vis Pesaro e scorrendo in questo promemoria la Re Canatese affronterà il Ponte d'Era. A proposito di Re Canatese, l'intervista a Ferretti alla vigilia di questo match, lo ascoltiamo. Vediamo da una grandissima prestazione fuori casa a Lucca, come dicevo è difficile ripetersi, però siamo consapevoli della nostra forza e sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra ben organizzata, di categoria e quindi sarà una partita difficile però bella da giocare. Questa ormai è una nostra componente, una nostra forza insomma, siamo un grande gruppo e questo poi ce lo trasmettiamo anche in campo facendo sì che ognuno lotta e aiuta il compagno. Sarà un Ponte d'Era che viene a giocare su un campo totalmente diverso da quello di Pesaro perché loro sono abituati a giocare sul sintetico quindi sarà una partita diversa rispetto a quella di mercoledì però ripeto mi aspetto un Ponte d'Era ben organizzato che gioca un buon calcio ma noi dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi perché fare quello che sappiamo fare come abbiamo sempre fatto. Fare quello che sappiamo fare come abbiamo sempre fatto questa è la ricetta di Ferretti della Re Canatese. Passiamo ora invece alla Serie D e al Girone F perché è in programma questo quadro che andiamo a vedere ora con la San Benerettese che sarà di scena a Riviera delle Palme alle 14.30 domani contro il Tolentino stesso orario per Fano contro Vastese scorrendo ancora Montegiorgio contro Pineto e poi il Portodascoli che farà visita al Vasto Girardi due partite in programma domenica così come quella della Vigor Senigallia che giocherà alle 15 al Bianchelli e affronterà il Trastevere questo il quadro completo che viene appunto ultimato da Montegiorgio Pineto sempre alle 14.30 dicevamo della Vigor Senigallia attesa da una partita interessante contro il Trastevere anche la società Rosso Blu ha invitato tutti i sostenitori al Bianchelli per questa Vigor che continua a stupire e che mette in mostra anche tanti giovani talenti tra questo c'è appunto Mori che ascoltiamo nella vigilia del match Il gol è stato sicuramente una grande soddisfazione è stato il mio primo gol con la maia della Vigor e speriamo che ne arrivino altri. Il pareggio ci ha lasciato inizialmente un po' di amarezza dopo però abbiamo capito che è stata una partita molto difficile giocata in un campo difficile e quindi siamo stati comunque soddisfatti del pareggio. La partita sarà una partita sicuramente difficile come tutte le partite che abbiamo affrontato fino ad ora e l'avversario è forte ma noi non siamo da meno e ci crediamo. La partita è importante sicuramente dal punto di vista della classifica ma anche soprattutto dal punto di vista psicologico della squadra in quanto vincere darà sicuramente un altro segnale e noi ci crediamo e vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi Vincere davanti ai nostri tifosi l'ambizione del giovane Mori dalla serie D all'eccellenza come di consueto questa carrellata di appuntamenti che vi mostriamo nell'edizione del venerdì Andiamo a vedere il quadro che riguarda appunto il massimo torneo regionale Due partite in programma domani alle ore 15 ovvero Atletico-Azzurracolli contro Maceratese e Valdichienti-Ponte contro Iesina Poi le partite della domenica L'Atletico-Ascoli contro Losimana Il Castelfidardo contro il Marina E ancora Chiesa Nuova contro Forza Impronese Fabriano-Cerreto-San Giustese-Urbino-Porto-Santelpidio-Montefano-Atletico-Gallo Questo il quadro dell'eccellenza Invece ora parliamo di basket e di serie A Perché la WL Pesaro ha fornito alcune informazioni molto importanti Per Brescia-Pesaro La semifinale della Freccia Rossa Final 8 2023 La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Ha comunicato che sono appunto disponibili i biglietti presso il WL Point Pro di Sport di Pesaro Il Largo Ascoli Piceno 5 I biglietti che permetteranno di assistere dal settore ospiti al match contro la Germani-Brescia Valido per la semifinale della Freccia Rossa Final 8 2023 In programma sabato domani 18 febbraio alle 20.45 al Pala Alpi Tour di Torino Questa informazione è per una partita assolutamente da non perdere Con la WL che va bene in campionato e sta andando bene anche in Coppa Italia E vuole regalarsi un'altra serata magica Passiamo invece alla Super Lega di Volley Perché la Lube prepara la partita di domenica alle ore 18 Sfida interna Cucine Lube Lube, pardon, Civitanova contro la Blue Energy Piacenza Sfida appunto all'Eurosuole Forum di Civitanova Marche Gli arbitri saranno Zanussi e Carcione Questa è la partita che attende i cucinieri di coach Blengini Che qualche giorno fa, come abbiamo sentito nelle precedenti edizioni Ha rinnovato il contratto a Capitan De Cecco Parliamo invece di Volley Ma ci trasferiamo in auro femminile Guardando il programma che attende le due formazioni marchigiane A partire dalla CBF Balducci Macerata che sarà in trasferta domani alle 18 Contro la Savino del Bene Scandici E scendendo in questo calendario Vediamo che invece la Megabox Vallefoglia Giocherà domenica alle 18 in casa Contro la Vero Volley Milano Questo il programma che attende le due formazioni regine Della nostra Serie A1 femminile Passiamo al Futsal e parliamo di Italservice Pesaro Perché in giornata è arrivato un annuncio Ovvero che i rossiniani non giocheranno in Serie A maschile In questo fine settimana Perché è stata rinviata la trasferta contro il Real San Giuseppe Partita riprogrammata martedì 14 marzo Ore 19 Si fa riferimento ovviamente ai comunicati ufficiali Che attestano la convocazione allo stage Della Nazionale Italiana di Futsal Di diversi giocatori del San Giuseppe Così come del Napoli e della Sandro Abate Dunque queste tre partite Meta Catania-Napoli Sandro Abate E la più importante per le Marche Real San Giuseppe Italservice Pesaro È stata cancellata e appunto riprogrammata Il 14 marzo alle ore 19 Per un Pesaro che rimarrà a guardare Da spettatore in questo fine settimana Sicuramente c'è da rivedere quanto fatto Dai ragazzi di Colini Che si sono andati a prendere un nuovo step Nel tabellone della Coppa Italia Alle Final Four di Coppa Italia Ci sarà anche l'Italservice Pesaro I biancorossi sono stati capaci a Padova Di vincere 5-3 supplementari Al cospetto del Petrarca I Veneti vanno avanti 2-0 Dalcini e Tony Dandella a cavallo Dell'intervallo realizzano la rimonta Un tiro libero di Felipe Mello A metà ripresa costringe Pesaro Ad inseguire di nuovo Ma nel finale batticuore Ecco due tiri liberi per i Colini Boys Il primo di De Oliveira Lato di un soffio Il secondo a 1 minuto e 24 secondi dal gong Vincente grazie al mancino di Murillo Schiocchette Goduria Speranza e supplementari Ora è lotta dura Durissima E quando c'è da tirare fuori gli attributi Quando conta davvero Little Service si fa trovare pronto Nel giro di 80 secondi Ecco altre due reti di uno scatenato Murillo Schiocchette Tripletta personale Si porta a casa il pallone del match Che confezionano il regalo di San Valentino più bello Per i tifosi innamorati del Pesaro A Corsi in Veneto Una cinquantina E spedisce Little Service dritta dritta Alle Final Four di Napoli 25 e 26 marzo Là in Campania Contro una delle tre campane qualificate Feldieboli Real San Giuseppe Una fra Napoli e Sandro Abate Nella competizione più amata del popolo Del futsal italiano Toni Dandella e compagni Proveranno l'ennesima impresa Della storia del club di Lorenzo Pizza Difendere i due titoli conquistati Nelle due stagioni precedenti Grazie ad una squadra stellare Oggi La squadra non sarà altrettanto ricca di fenomeni Ma Pesaro sogna lo stesso Pesaro sogna lo stesso Come abbiamo detto in Final Four di Coppa Italia E sogna anche il Città di Falconara Che prova a riprendersi la vetta della classifica E poi arriva domenica alle 18 La partitissima La classica più importante del futsal femminile Perché Città di Falconara Incrocerà il Pescara Appunto domenica alle 18 Al Palabadiali Pensate che sono 21 i precedenti Nella massima serie E gli ultimi trofei Che sono stati assegnati Dal 2019 ad oggi Sono stati vinti Proprio dalle marchigiane E dalle abruzzesi Dunque questo è il biglietto Da visita più importante Per invitare tutti gli appassionati Di futsal femminile Al Palabadiali Partita in programma alle 18 E questa era la nostra ultima notizia Io vi ringrazio Per averci seguito L'augurio di una buona serata E arrivederci alla prossima settimana Con il nostro ETG Sport Per averci seguito Per averci seguito Per averci seguito